Niente, quindi Forzano è venuta qua a fare una partita, soprattutto per servizio, che ci ha messo in strana difficoltà sbagliando poco, portando tantissimo a casa e merito d'oro. Purtroppo a noi in certi momenti ci manca tutto quello che serve per agire, quindi una volta non abbiamo avuto la fortuna di trovare in individualità chi ci portasse fuori, quando non succede capita come oggi, quindi l'unico e il solo responsabile tutta questa situazione è sicuramente in comanda, quindi non voglio sentire parlare di atteggiamenti, non mollare mai, i ragazzi non mollano su, stiamo lavorando con dei problemi fisici come tutti gli altri, non ci stiamo grattando e non stiamo giocando a calcetto, c'è come se non funziona e la colpa è esclusivamente mia.